Presidente Michel, io ho sempre più l'impressione che ogni volta che importanti istituzioni europee, soprattutto in un momento di crisi, si riuniscono per decidere qualcosa, dimostrino solo quanto questo continente sia lacerato e quanto questo continente sia ormai alla deriva, un continente secondario vittima delle scelte politiche sbagliate fatte soprattutto negli ultimi vent'anni. Lei ha iniziato il suo discorso parlando di politica estera, parlando di quello che avete deciso riguardo ai vari focolai geopolitici in giro per l'Europa e lo hanno ricordato i miei colleghi, i dittatori stranieri si fanno beffe di noi vedendo queste decisioni. Avete sanzionato la Bielorussia, ma vi siete dimenticati di sanzionare il leader di quel paese responsabile per ciò che sta accadendo. E come al solito lei ha elogiato l'atteggiamento verso la Turchia, che rimane comunque un atteggiamento lascivo, un atteggiamento che permette a Erdogan, il dittatore turco, di prendersi beffe delle istituzioni europee, di prendersi beffe degli stati membri europei e di continuare a sfidare e a provocare l'Unione europea e gli stati membri facendo quello che vuole, senza che noi siamo capaci di prendere azioni decise. E ancora una volta un approccio totalmente incoerente, dove siamo lascivi con dittatori stranieri, mentre ci permettiamo di dibattere sullo stato di diritto, su comportamenti di certi stati membri, dimenticandoci che ancora una volta non è l'Unione europea che legittima gli stati membri, ma sono gli stati che legittimano l'Unione. E questo è un concetto di cui dovremmo avere tutti più rispetto. E il secondo punto con cui vado a chiudere, quello a mio avviso più importante, si è parlato di recovery fund, a luglio si è propagandato un grande accordo, ma alla fine cosa rimane sul tavolo? Rimane un accordo non ancora stilato, non sappiamo quando e come arriveranno i soldi e l'impatto, vedendo i numeri pubblicati dalla Commissione, è assolutamente minimo. L'anno prossimo, nel 2021, se ci sarà un accordo, verranno erogati pagamenti per il 6% della cifra. A fronte di un calo del PIL in doppia cifra per il mio Paese riceveremo un supporto pari allo 0,16% del PIL. Non è certo questo che cambierà il futuro e il destino dell'Unione europea. Però siamo certi che arriverà una cosa, arriveranno delle tasse, quelle che voi chiamate risorse proprie. Dal 1 gennaio arriverà una tassa sulla plastica. Voi direte benissimo, aiuta, perché ci permette di attirare risorse e ci permette anche di ridurre l'utilizzo di plastica non riciclata. Ma ancora una volta, delle due l'una o avremo una fonte di finanziamento tramite una tassa europea o avremo una riduzione delle plastiche. Non è possibile raggiungere contemporaneamente entrambi gli obiettivi. Chiudo con una riflessione che vorrei vedere nel prossimo Consiglio europeo. Siamo nel più grande momento di crisi dell'Unione europea, degli Stati membri, una crisi esogena che non dipende da noi. Abbiamo fatto un patto di stabilità e crescita proprio perché nei momenti di difficoltà dobbiamo avere stabilità e crescita. E invece cosa succede? Proprio nel momento in cui affrontiamo la più grande crisi, in cui abbiamo bisogno di stabilità e crescita, dobbiamo sospendere questo patto. Ecco, questa è una riflessione che vorrei vedere nel prossimo Consiglio. Grazie.